E mi perdo nei tuoi baci, dentro il cuore si mi bruci, come il sole d'estate di... Antonio, bucchettaro il numero uno alle Romaniei, Saren Tors. Giela prende flaccherile temperamentului suo italian pentru a ne prepara specialitețile cele mai delicioase alle Italii. Mio caro l'amore, e nei tuoi baci... Gusturi le Italii cu Antonio Passarelli. De luni până lineri, la TV Paprica.